Mi chiamo Linda, nella vita faccio la mamma, ho 35 anni, faccio un impiegato a tempo pieno, faccio la donna e faccio la persona che vuole diventare il meglio che può. Ho saputo di questo evento perché faccio parte del percorso effettivo avanzato di CASTRADINARIA e quando ha pubblicato la notizia e la possibilità di poter partecipare all'intensivo, visti i risultati che ho ottenuto, non avendola mai conosciuta di persona, ho deciso di non farmi scappare l'occasione. Ho deciso di partecipare perché faccio parte di questo percorso ormai da un anno e la mia vita è stata completamente stravolta in meglio e quindi il fatto di avere la possibilità di poter incontrare uno o tutti i compagni di corso che per limiti geografici di tempo, che durante la vita quotidiana fai difficoltà in qualche modo incontrare o a passare del tempo insieme, era una cosa che mi mancava tanto e quindi a parte il contesto sociale, mi sono dato una possibilità, mi sono dato una possibilità rispetto ai miglioramenti che ho visto che ha potuto dare questo percorso e ho avuto ragione. Allora, in me è sicuramente cambiata la consapevolezza, anzi è caduta un po' la certezza e forse la falsa convinzione che noi da soli possiamo essere eroi e stare bene, invece in qualche modo noi possiamo essere eroi ma con la condivisione è ancora ancora più bello. Mi porto a casa sicuramente amore, mi porto a casa la condivisione, mi porto a casa la consapevolezza che esiste un mondo stupendo e che è possibile. Ma allora, sicuramente applicherò ancora di più, più di quello che già sto facendo, tutta me stessa e tutto il mio cambiamento nella vita di tutti i giorni e cercherò di portarlo ancora di più agli altri di quello che sto facendo. L'ha già fatto, ha già trasformato la mia vita su questo e sono felice di continuare a trasformarla perché trasformarsi è ciò che ci rende vivi, ciò che ci rende liberi e ciò che ci rende belli. Sarà mai più come prima il mio sentirmi sola perché non lo sono. L'evento è sintetizzabile in una sola parola che è magia. Voglio ringraziare Patrizia perché sei bella e ti ringrazio perché ti stai permettendo di essere ciò che sei e grazie a questo lo stai portato al mondo e grazie a questo stai portando al mondo persone migliori che ti stanno permettendo di essere ciò che sono e risultato è un mondo ancora più bello.